Sono iniziati i lavori, io avevo già avvisato a chiunque il seme di dovere di cavare questi gatti, visto che è stata censita dal comune e non l'hanno fatto. E quindi ora sono iniziati i lavori veri e propri e i gatti verranno smantellati, non hanno più un riparo, non hanno più niente. Io sto chiamando chiunque per farmi aiutare a trovare una sistemazione per questi gatti. Ci troviamo in via Concino Concini ad Arezzo, nella zona dell'ex mercato Orto Frutticolo. Proprio all'interno di questi stabili, ormai da tempo abbandonati, hanno infatti trovato rifugio una quindicina di mici, anche gatte con cuccioli. Nella zona sono iniziati adesso i tanto attesi lavori di demolizione, che però potrebbero mettere a rischio questi animali. Da qui l'appello è lanciato da una cittadina che da tempo si prende cura della colonia censita. L'appello ovviamente è alle associazioni animaliste? Eh sì, sono disposta anche a prendere alcuni, ma poi il resto non lo so. Hanno bisogno adesso di un riparo? Eh sì, che non hanno, non sanno dove andare proprio praticamente, non hanno più niente. Cioè quel poco che avevano, quello lo buttano giù, quindi è a rischio di essere sotto le macerie, ci sono parecchi, mamme con cuccioli, e quindi non so la fine che potranno fare. Una colonia censita, quindi l'appello insomma è anche all'amministrazione comunale? Cosa chiede all'amministrazione comunale? Di trovare una soluzione, un posto idoneo per loro e in sicurezza possibili. Niente, perché non è possibile metterli qui in strada. Se hanno un posto, se io sono senza il suo, posso tranquillamente aiutarli senza trovare, cioè a contribuire e tutto il resto.